Come anticipato nei titoli di copertina abbiamo in studio l'avvocato Annalisa Petitto, consigliere comunale del Partito Democratico, la prima firmataria di una richiesta di consiglio comunale monotematico proprio che riguarda il Policlinico. Intanto grazie consigliere di averci dedicato questo spazio di tempo serale e poi le volevo chiedere subito, parleremmo di Policlinico, parleremmo di Sanità, parleremmo anche di politica perché poi le cose si intrecciano. Immediatamente due sono gli appuntamenti, quelli prefissati, il consiglio comunale e prima del consiglio comunale l'assemblea cittadina che è comunque un'iniziativa che mette a dibattito una vicenda che riguarda la città. Forse siamo stati anche meno compatti di Enna perché a Enna c'è stata una compattezza maggiore. Dunque io le faccio subito una domanda. Il Policlinico a Caltanissetta è un'utopia o no? È un Policlinico confuso come abbiamo detto in un pezzo o è un Policlinico diffuso? Questa è la prima domanda, poi le chiederò qualche altra cosa. Intanto grazie, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Innanzitutto voglio fare però una puntualizzazione. Io in realtà non sono la prima firmataria di una richiesta di consiglio comunale. Io ho però inoltrato una richiesta alla conferenza dei capi gruppo perché si esprimesse all'unanimità e si esprimesse quindi nella sua sede propria per la fissazione di un consiglio comunale che di fatti è stato fissato per il 5 maggio. Vabbè, ha voluto fare un atto di umiltà però è stata quella che ha avuto l'idea perché l'ho scritto anche nel pezzo. Vabbè, prendiamo l'atto d'umiltà. Però questo è per collegarmi a quello che diceva poc'anzi lei perché su temi come il Policlinico a Caltanissetta, sì, no, confuso o diffuso, credo che la compattezza di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale sia fondamentale sia determinante, anche un po' per colmare quel gap che allo Stato abbiamo con Enna che già si è espressa in senno al consiglio comunale, ai massimi vertici politici ed istituzionali. A Caltanissetta forse siamo stati un po' più lenti ma credo che avremo la capacità di essere dirompenti e determinanti tanto quanto se non addirittura più di Enna. Una totale assenza della politica nazionale, dei rappresentanti nazionali, quasi completamente. Confermo. Una presenza spot, diciamo, ad albero di Natale che si accende e si spegne invece per la compagine regionale, molto attiva la parte del Movimento 5 Stelle, un po' l'onorevole Arancio c'è stato, insomma, ma anche lui è abbastanza latente, poi il centrodestra, insomma, in parte non pervenuto, in parte tirato a forza. Questo quanto fa scontare il fatto che questo territorio su un tema così importante come la sanità, lei ha fatto le battaglie sulla sanità ma da tempo immemore, quando, diciamo, forse era anche sola, completamente sola, e adesso quanto conta il fatto che nonostante tutto non ci siano? Allora, credo che conti moltissimo e conti fondamentalmente per la città. Questa città credo che oramai abbia ben capito come comportarsi alle prossime tornate elettorali, per un semplice motivo. Eleggere un proprio rappresentante significa trovarlo al proprio fianco quando c'è bisogno, e quando c'è bisogno significa anche quando si devono portare avanti delle battaglie scomode, delle battaglie complicate. Come quello, per esempio, della sanità, come quella dell'istituzione del policlinico. E credo che lo abbia capito e lo stia, in questo momento, dimostrando proprio con la convocazione di questa assemblea cittadina. La città sta dimostrando che può fare a meno anche della politica, o quantomeno sta dimostrando che a prescindere dalla politica è in grado di organizzarsi, è in grado di chiedere conto per capire, per comprendere. L'assemblea cittadina del 2 maggio è stata fortemente voluta e organizzata da due cittadini semplici, da due cittadini che hanno deciso di metterci la faccia e di organizzare un dibattito pubblico. Cosa che forse la politica non riesce a fare, se non in quei famosi tavoli, dove poi si dovrebbe decidere, invece in parte si fa melina. Però cominciano a tornare una forma di civismo, ovvero le istanze che partono dal basso, però da qualche parte devono arrivare, parliamoci chiaro, questa storia del policlinico diffuso, confuso, adesso si parla addirittura anche di fondazione, poi ci dovrebbero spiegare le modalità. Ma è una trovata elettorale, o meglio, il sindaco Gambino ha rotto un giocattolo, un giocattolo che poteva servire come una trovata elettorale. Nello stesso tempo probabilmente si può utilizzare questa vicenda per difendere il nostro hub di secondo livello che sta quotidianamente per essere svuotato nonostante tutto e nonostante tutti, perché sembra un arresto in un lio simbonis, o meglio, nelle mani di pochi. Allora, lei ha toccato diversi temi. Allora, innanzitutto è vero che la politica deve rappresentare, ma prima di rappresentare deve ascoltare, deve ascoltare le esigenze del territorio. Io credo che in questo momento la disaffezione nei confronti della classe politica dipende dal fatto che troppo spesso parla senza ascoltare la base, la cittadinanza e così via. L'occasione del 2 maggio è proprio questa. Io mi auguro che la politica sappia ascoltare le istanze della città e farle proprie, farle divenire proposta politica. Ecco il motivo per cui, sebbene il tema del Policlinico esigesse dei tempi rapidi, è stata volontà della Capigruppo fissarla dopo l'Assemblea cittadina, proprio perché vorremmo tornare a discutere in Consiglio Comunale, che è il luogo deputato per la discussione politica e per la proposta politica, sulla scorta di quello che abbiamo raccolto dal tessuto cittadino, dal tessuto sociale. Ci tengo anche a precisare che, scientemente, volutamente, non abbiamo fatto un Consiglio Comunale aperto, perché non avremmo potuto votare nessun documento, non avremmo potuto votare nessuna mozione che impegni l'amministrazione a seguire una direzione, a seguire una strada. E poi perché abbiamo dato importanza a questa Assemblea cittadina che invece, proprio perché è organizzata da due semplici cittadini, avrà come parterre la città, a cui comunque sono stati invitati tutti gli organi politici, tutta la rappresentanza politica. Quindi, me la faccio dire in maniera brutale, ma le passerelle, è finito, sono soprattutto su determinati temi, il tempo delle passerelle e degli interventi promozionali per qualcosa o per qualcuno. Forse questo è il tempo in cui le passerelle non le vogliono più neanche fare, perché sulla sanità si hanno interessi reconditi. Si hanno più che un interesse, anche perché, come diceva poc'anzi lei, la vicenda della sanità, strettamente legata all'aspe di Caltanissetta, all'ospedale Sant'Elia, è una vicenda, diciamo, su cui, lo ricordava lei, mi sono spesa anche in solitaria, ma non perché fosse un argomento o un tema forte, ecco, ed è un tema che viene sollecitato H24, sette giorni su sette, dalla cittadinanza, che ha il diritto ad essere curata, ha il diritto a usufruire di determinati servizi, in un contesto in cui c'è una gestione oligarchica. Una gestione oligarchica di pochi e una gestione oligarchica per pochi. Al di là del servizio assolutamente scadente, sanitario a 360 gradi, che viene offerto alla cittadinanza nissena, c'è anche un servizio, un'organizzazione assolutamente lacunosa, che poi è, come dire, la causa di quell'effetto che è il servizio sanitario assolutamente scadente. Perché è una politica di accentramento? È una politica di accentramento, infatti l'ho proprio detto, è un'oligarchia, vige il sistema dell'oligarchia al Sant'Elia, all'ASP di Caltanissetta. Non si capisce perché, seppur un hub di secondo livello sulla carta, perché è un hub di secondo livello solo e esclusivamente sulla carta, nel nostro Sant'Elia i reparti si chiudono, i primari scappano, i dirigenti medici non partecipano neanche ai bandi per entrare. E soprattutto c'è una grande carenza di personale. C'è una grande carenza di personale, ma perché c'è una grande carenza di personale? Se si volesse aprire un reparto, diventerebbe complicato aprirlo, perché se il bandolo risponde... Non si può aprire, molti reparti vengono addirittura chiusi sempre per il problema della carenza del personale. E parliamo di carenza di personale in termini di dirigenti medici, perché? Perché i dirigenti medici, non vengono valorizzati, non c'è il sistema della meritocrazia all'ASP di Caltanissetta, al Sant'Elia di Caltanissetta, vanno avanti solo e esclusivamente i pochi, i pochi eletti. La stragrande maggioranza dei medici è costretta a subire uno stato di cose che premia per altri criteri. Su questo argomento la inviterò in maniera... proprio facciamo uno speciale sul Sant'Elia. Il nostro tempo è finito. Una domanda proprio a shock. Si candida alle regionali? Lo dicono tutti. Alle regionali non mi candido. Perfetto. Questa è la notizia. Oggi mi ha dato una notizia. Grazie per essere stata con noi. Ci rivedremo anche per fare il punto della situazione sul Policlinica e sulla sanità. Assolutamente è a disposizione. Grazie mille a lei. Grazie. Alla T. Noi con...